Quindi presento il caso di una giovane paziente, una giovane ragazza, che presenta veramente un piccolo, piccolo gibo, un gibo poco pronunciato sul profilo nasale, chiaramente, reso più evidente da una lieve depressione a livello della radice nasale e da una lieve depressione dell'area suprotipo, cioè l'area che nel profilo è immediatamente al di sopra della punta nasale. La paziente si è rivolta da me per effettuare una rinoplastica con l'idea di limare il gibo quando invece le due depressioni potevano essere sfruttate per essere colmate con un filo, quindi un'infiltrazione di acido ilialuronico, e ottenere un profilo rettilineo. Ho mostrato alla paziente il potenziale risultato con una delle immagini foto elaborate con programmi facilmente disponibili e la paziente ha gradito molto il risultato, quindi invece di una rinoplastica chirurgica che con tutto ciò che ne comporta, in pochi minuti ha ottenuto il suo risultato infiltrando acido ilialuronico in modesta quantità sia nella radice del naso che nell'area suprotipo, cioè nell'area che sta tra il gibo e la punta. Trattamento ambulatoriale di pochi minuti e come vedete nelle foto post-operatorie il risultato immediatamente percepibile e apprezzabile. L'arrossamento che vedete nelle foto è connaturato al trattamento, ha generalmente una durata di poche ore e poi scompare. Questo tipo di trattamento effettuato con acido ilialuronico ha una durata di 6 mesi ed è ripetibile.